Romagna, Romagna mia, lontan da te non si può star. Cari amici di Videoregione, oggi Vita da Mercato ci ha portati fino a qua, a Sarsina, mitica cittadina della provincia di Fordì e Cesena. Dovete sapere che in Romagna non si perde mai occasione per far festa, specialmente a ridosso delle grandi ricorrenze religiose, allo stesso tempo folcloristiche. Ed è per questo che a Sarsina è arrivata la 38esima edizione della Sagra della Pagnotta Pasquale che va in scena le due domeniche precedenti alla Pasqua. In piazza Plauto e strade limitrofe si riempiono di bancarelle, poi ci sarà il trofeo Magna la Pagnotta, poi la gara della migliore pagnotta casalinga e altri stand gastronomici. La Pagnotta la potete acquistare nei forni e pasticcerie del paese. Mi raccomando, se la Pagnotta non è almeno 4 kg, non è Pagnotta. Poi Sarsina è famosa anche per il suo collare di San Vicigno, quindi fate bravi, non fasi i dieval. Oh Burdel, alzavi che quando è una festa, me so curioso. Dai dai, seguitemi, sotto la pioggia, sotto la pioggia. E mi ha detto, va a Sarsina, qui è un sol che spacca il montagno. Me ha pensato acqua, ma no tempesta. Ragazzi, Corrado adesso è a piedi, ma prima era in bicicletta, si è fatto una salita della Madonna arrivare qua a Sarsina. Sì, ma la bicicletta era elettrica, quindi non è stato un vero. Hai fregato? Sì, sì. Corrado è uno che frega. No, no, non è vero. Corrado, sempre la verità. Allora, ascoltami bene, dimmi qual è la città più verde. La mia. Sarebbe? Fano. Eh no, è Prato. Il Prato è verde, no? Ragazzi, sono qui con Biccio. Giorgio. Giorgio Chimat di Verrucchio. Ciao ragazzi. Salve. Intanto hai un cerotto nel naso, cosa è successo ieri? È la moglie, è la moglie che è incassata. Ce l'hai fatta incassare? Ah sì, ma mi piace l'amante, mi piace, dopo lei si incassa quando lo viene a sapere. Giorgio, è un casente, capirlo? Chi porta i pantaloni a casa tua? Mia moglie. Sempre. Ok ragazzi, non ce la possiamo fare, però ce la potranno fare con questo. Mi dovete dire, mi dovete dire, qual è la città in Italia dove ci sono più raccomandati? Roma. Roma. Eh no, è Lecco, Lecco. Saluto a tutti. Giorgio, Giorgio, ti non c'è più vero. Eh, a suo vecchio. Cari amici di Videoregione, siamo qui con Marina e siamo alla piadineria da Elisa a Borello. Ciao. Ciao, buongiorno a tutti, bentrovati. Allora, spiegaci un po' la tua attività. Allora, io ho aperto questo chiosco un anno fa, l'ho preso in affitto e diciamo che sono comunque cuoca, sfoglina, ho gestito dei chioschi di Piedina in passato, sono nel settore da parecchi anni, sono diciamo la classica sdora, ho una scuola di casa delle Aie e quindi tutto a Mattarello, sono capace a tirare anche con Mattarello in caso di emergenza, però non chiedetevelo perché, perché è un po' dura. E niente, adesso ho deciso di mettermi in questa attività con, sono io proprietaria, c'è mia figlia che intanto mi aiuta, anzi lei viene a mangiare e quando può viene anche il mio compagno a sostenermi, diciamo. E dove ti possiamo trovare? A Borello, a Borgo di Gallo, in via Gallo 797. Ciao Borello! Lo spot è, se mangi la pagnotta di Beatrice vai via che sei felice! Sempre, infatti noi abbiamo sempre il sorriso. Anche con la pioggia? Anche con la pioggia, certo, non ci ferma niente. Ma sì, giornata bagnata, giornata fortuna. Speriamo, speriamo. Allora, dato che è un po' freschino, mi devi dire qual è la città più fredda d'Italia? Gelo. Gela. Gela. Gelo è il suo fratello. Gela. Saluto a tutti. Buona Pasqua. Guarda che freddo. Guarda che freddo. Ho un po' di freddo, sì. A Sarsina, a Sarsina, siamo con Maurizio e... Martina. Ragazzi, siete pronti con l'indovinello? Pronti! Allora, mi dovete dire qual è la città più lunga? Lungomare. Ventimiglia. E invece la nazione più lunga? Lungheria. Lungheria! Oh, a Sarsina, il sai in quel... Ciao Burdel. Allora, dicono che il sole bacia i belli, noi siamo belli. A Tedeg, siamo con Marina e Stefano, ciao. Ciao, un piacere, Marina. Stefano, com'è lavorare insieme alla Marina? L'è bel? Si sta bene e si impara anche bene, anche in fretta. È facile imparare da lei. La fa dei material? No, adesso ancora il materiale non l'ho ancora usato. Però c'è sempre tempo che per quello. E invece... Ti picchio? No, ma l'ho minacciato prima per quello che dice che va tutto bene. Sì, ha detto non dire cose che non vanno bene. Non dire cose che non vanno bene perché dopo, altrimenti, me... Ti prendo dopo. Non ho capito, ma voi avete il lavoro a casa, il lavoro a casa, l'orca, non vi stracciate mai? No, intanto... Vabbè, è un uomo, quindi ogni tanto, sai, qualche momento di sclero ce l'ha. Ah, ti capisco. Ti sentisci a Claudia? No, vabbè, ma ho il neurone quello unico che gira per i fatti suoi, che ogni tanto si perde quando c'è i suoi momenti. Dove sei? Non ti trovo! Ho bisogno di aiuto, vieni qui! Però, insomma, a parte quello, no. I momenti, ogni tanto, qualche vatti becca, cioè, è normale, ma è importante chiarirsi. Però, l'importante è che nel lavoro si sta bene. Nel lavoro si vede... Oh, che bello! Vedi che sviolinata che ti ha dato. L'ho pagato prima. Allora, ragazzi, siete pronti a un indovinello? Vai! Qual è la nazione che ha le uova più piccole al mondo? Perché ne so? Dove c'è i colibri, ma i colibri non so dove... Le uova più piccole al mondo, una nazione, dai, a Scuremadovi, a Piadina, gli uvi più piccoli del mondo, qual è la nazione? Io non le uso le uvi. Dile una. Boh, eh, Colombia, che ne so. Afghanistan? Filippine, i fatti agli uvi e che... E le quaglie? È vero. Quello non ci avrei mai pensato io. Saluto a tutti. Non ci avrei mai pensato, sicuramente. Non ho parole. Ciao a tutti. Cercavo un uomo di classe, l'ho trovato qui a Sarsina e lui Alberto di Lido di classe. Lido di classe. S'ha fatto a quei? Sono venuto a sentire la grappa qui della banda, della banda di Sarsina, che la seguo sempre. Adesso è più... Anche domenica ero qua, a posto per la grappa. Quindi fai un saluto in dialetto. A saluto tot e popolo Sarsina, tutta la bella gente di Sarsina. Parola di Eleonora. Seguite Vita da Mercato, il programma più azzeccato. Azzeccato! C'era la canzone, eravamo quattro amici al bar, ma loro giocano a briscola qui a Sarsina. Ciao, chi sei? Mara. Mara, ascolta, con chi stai giocando? In coppia con chi? Con Carlo, un mio amico. Un amico. Ma come sta andando la partita? Così, così. Il farà bene? No, è bravo lui, lui è bravo. Ma chi è più forte, loro o voi due? Noi due siamo più forti. Ah sì? Certo. Chi è che è Kergat Pio? Lei. Ma lei non ha il carico da dieci, da undici? Da undici, c'ha sempre la carta vincente sotto. Tant'è un malo, fatemi un saluto nel vostro dialetto, dai. Non lo so, il dialetto è un saluto. Oh, giocate a carte. Oh, io pensavo a scopa, ma va bene anche briscola, dai. Marina, Stefano ha la voce grossa, è come quel mio amico che aveva questo vocione. Dottore, dottore, ho questa voce, dottore, sono tanti anni che ho questa voce, dottore, però io vorrei avere la voce come gli altri. Si spogli. Ah, ho capito, la voce viene dal di lì. Lei ha tre palle. Togliamo una palla e la voce di toglie normale. Ha detto, ma che stiamo a dire, ma alle donne ci piace tanto la terza palla. Scelga lei. O vuole la voce normale o si tiene le donnine e le fa divertire. Ha detto, dai, dopo tanti anni, dai, caviamo, dai. Via, operazione. Cioè, dopo dieci giorni telefono al dottore. Dottore, dottore, senta che bella voce che ho. E però, dottore, con le donne non va mica più così tanto bene. Dottore, non è che possiamo rimetterla. Ah, bello mio, cavamiti, cavamiti. Ragazzi, siamo con Carlos, lo spagnolos romagnolos. Ciao. Ciao, un piacere. Carlos, qual è la nazione con più cannoni al mondo? Se parliamo del cannone, dipende dal tipo del cannone. Cannone. Per me è Sicilia, no? Il cannone è siciliano. La Giamaica. Ostia, a me piace la Giamaica, almeno. Carlos, è uno che se ne intende. Saluta. Saluta la Giamaica, ragazzi. Cari amici di Videoregione, siamo qui da Giulie e Pondor, una piadineria di Montepetra bassa, e siamo con lei, Giuliana, detta Giulie, ciao. Ciao a tutti. Cara Giulie, ci spieghi un po' i tuoi prodotti tipici? Allora, noi facciamo i crescioni, pomodoro, mozzarella, zucche, patate, le erbe. Poi adesso si fanno con salsiccia, salsiccia e cipolla, con le zucchine, col cauro, più ne ha più ne metta. Facciamo i rotolini, la piedina, vari tipi di salume, anche la salsiccia, panini, hamburger, hot dog, tanti tipi di fritti, mozzarella, olive, tortellini, raviolini fritti. Sì, un po' di tutto. E siete aperti da? Dal martedì alla domenica, dal martedì al venerdì, dalle tre, fino alla chiusura non si sa, finché c'è gente. Allora adesso ci devi fare un bel salutone a tutti quelli che ti stanno guardando. Saluto tutti quanti, tutti i miei clienti e quelli futuri che verranno. Parola di Giulie. Il sabato e la domenica siamo aperti anche a pranzo e l'orario è continuato fino a cena, quando avete fame. E allora venite su, no? Da giù una vostra. La domenica è sportiva, devo sapere i risultati, so che il Cesena ha vinto. Ha pareggiato 1-1. 1-1 ha pareggiato, bene, così via. Anche il Santa Cattese ha pareggiato 1-1 e poi con quattro partite, sai cosa ha fatto? La partita ha perso e poi è riuscito a vincere il sabato scorso. Olio e staglio. Aiuto, steulio, dove sei passato? Molto stupido. Aiuto, olio, dove sei passato? Io pure. Fracchia. Oh, c'è anche lui, come a mano lei. Guardi, più guarda, più guarda, più, c'è qualcuno che mi guarda, più mi guarda e più lo vedo. Signora Coriandoli. Guardi una cosa proprio che non le dico, sono andato alla Mat, qui a Nuovo Feltri, all'ultimo dell'anno ho fatto pagare 60 euro. Chiudimi, salutami tutti con Topo Gigio. Topo Gigio, da Passami di Cocco, lo vedi mai il sabato dell'Ossichino, ma adesso ci sono anche i cartoni animati, dai. E poi i 14 sono in orbita a fare la testa corrida a Sant'Agata Feltria, all'Osteria, presentatore ufficiale io. Ciao! Adriano vuol dire la sua. Sì, sono venuto qui a Sarsena, tutti gli anni vengo, per la famosa tradizione della pagnotta di Sarsena. E poi è anche un bel posto, perché qui siamo andati anche a visitare la chiesa e ho messo anche il cerchio nel collo, perché ci credo. Lui è venuto per la gnocca, non la pagnotta. Lui farà il suo corso, io faccio il mio. È di corso, comunque è tutto ok, dai, via. Ragazzi, siamo con Anna e Cristian. Oh, l'Anna è un po' più bella di te, però, eh? Ma immagino, è anche più giovane, è meraviglio. Però io le frego le belle. Ah, ecco. Belle e buone! Le fregole! Vuoi un saluto in russo? Siamo qui con Stefano in arte Pondor. Ci spieghi cosa vuol dire Pondor e il perché ti chiamano Pondor? Ostia, adesso non so se si può dire, comunque perché dico sempre Dio Pondor. Dio pomodoro! Dio si pomodoro! Il pomodoro è una cosa molto bella, si può dire. Eh, che buono! Mi devi dire, qual è la città che nel mondo in assoluto ha più bagni di tutti? Settebagni. E dove è la città Settebagni? A Roma, no? No, è una città internazionale. Ah, Chicago, è vero? Chicago! Ti capisci, Pordè? Fammi un saluto in dialetto. Al saluto! Cari amici, a Videoregione, la puntata di Vita da Mercato, dalla sagra della Pagnotta, finisce qua. Sono in compagnia di Giorgia e Lucia, ciao! 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 Però, ragazze, seguite Vita da Mercato su Videoregione. La TV che si guarda, si ascolta con... Piacere! Passione! Umore! Passione! Ciao!